Ciao ragazzi, in questo video proseguiamo il discorso sull'algebra lineare che abbiamo cominciato nei video precedenti di questa playlist, dando un'occhiata ad intersezione e somma di sottospazi e alla formula di Grassman. Cominciamo innanzitutto col dire che se U e W sono due sottospazi vettoriali di un certo spazio vettoriale V, allora anche la loro intersezione è a sua volta un sottospazio vettoriale di V e per indicare questo sottospazio si usa questa notazione analoga a quella che si utilizza nel caso degli insiemi. Per convincerci che le cose stanno effettivamente così diamo rapidamente un'occhiata all'idea della dimostrazione anche perché ci è utile per ripassare come si fa a dimostrare che un certo sottoinsieme è un sottospazio vettoriale e questa se ricordate è una cosa di cui avevamo già parlato in uno dei video precedenti di questa playlist. Supponiamo che V1 e V2 siano due generici vettori dell'intersezione. Allora è chiaro che la loro somma abiterà sia in U che in W. Cerchiamo di capire perché. Beh, se V1 e V2 abitano nell'intersezione, in particolare abitano in U e quindi, visto che U è un sottospazio vettoriale, sappiamo che la somma di due suoi elementi ricade all'interno del sottospazio. E naturalmente, analogo discorso, possiamo fare con W. E quindi, vedete, visto che il vettore somma tra V1 e V2 abita sia in U che in W, allora chiaramente abita nell'intersezione tra U e W. Appurato questo, per poter parlare di sottospazio vettoriale, ci resta da provare che tutti i multipli di un certo vettore che abita nell'intersezione abitano a loro volta nell'intersezione. Per fare questo, ci basta osservare che se V1 è un generico vettore dell'intersezione, allora in particolare sta in U e quindi tutti i suoi multipli a loro volta staranno in U proprio perché U è un sottospazio vettoriale. E analogo discorso possiamo fare naturalmente per W. E di conseguenza, visto che λ volte V1 sta sia in U che in W, allora in particolare sta nell'intersezione. E quindi capite, visto che se sommo due qualsiasi vettori dell'intersezione, ottengo un risultato che sta ancora nell'intersezione e che se prendo un generico vettore dell'intersezione e lo moltiplico per uno scalare, il risultato sta ancora nell'intersezione, posso concludere che allora l'intersezione è un sottospazio vettoriale, visto che è un sottoinsieme chiuso rispetto alle operazioni di somma tra vettori e di moltiplicazione di un vettore per uno scalare. Per fissare meglio le idee, qui sulla destra vi ho riportato un esempio in R3. Come vedete, ci sono dei piani che passano per l'origine, ovvero dei sottospazi vettoriali di dimensione 2, tra cui questo verde che ho indicato con U e questo giallo che ho indicato con W. E la loro intersezione, come intuite, è rappresentata da questa retta passante per l'origine che ho colorato in azzurro e che sarebbe nello specifico un sottospazio vettoriale di R3 avente dimensione 1. Una volta capito questo, viene naturalmente da chiedersi se anche l'unione di due sottospazi sia a sua volta un sottospazio vettoriale. E l'idea è che in generale la risposta è no. Per capire come mai, consideriamo uno dei controesempi più classici che viene spesso citato nei libri di algebra lineare. Supponiamo di essere in R2, ovvero nel piano, e consideriamo due sottospazi di dimensione 1, ovvero due rette passanti per l'origine, per esempio gli assi cartesiani. E' allora chiaro che in questo scenario l'unione dei due sottospazi sarebbe rappresentata da tutti i vettori che giacciono o sull'asse X o sull'asse Y. E a questo punto si vede subito che non si tratta di un sottospazio vettoriale, perché se prendo due elementi come questo qui viola e questo qui azzurro e provo a sommarli, ottenendo questo verde, vedete che in generale il vettore somma non abita più all'interno dell'unione e quindi l'unione non ha una delle due caratteristiche che sono necessarie per poter parlare di sottospazio, ovvero il fatto che la somma di due degli elementi ricada a sua volta all'interno dell'insieme. Dunque in generale l'unione di due sottospazi vettoriali non è a sua volta un sottospazio vettoriale. Si può invece dimostrare che se U e V doppio sono due sottospazi vettoriali di un certo spazio vettoriale V, allora l'insieme dei vettori che si possono scrivere come somma tra un elemento di U e un elemento di V doppio costituiscono un sottospazio vettoriale di V e a questo sottospazio vettoriale si dà il nome di sottospazio somma e lo si indica con questa notazione qui. Per fissare meglio le idee, se riprendiamo l'esempio in R2 di cui parlavamo poco fa, se U fosse l'asse X e V doppio fosse l'asse Y, allora capite che questo insieme qui, ovvero l'insieme dei vettori che si possono ottenere come somma di un elemento di U e di uno di V doppio, rappresenterebbe in questo caso l'intero piano, perché qualunque vettore in questo piano si può pensare come somma tra un elemento di U e un elemento di V doppio. E dunque, a differenza dell'unione, stavolta siamo sicuri che si tratti di un sottospazio vettoriale. Infatti, se sommo tra loro due vettori del piano, sono sicuro di ottenere un altro vettore del piano e tutti i multipli di un qualsiasi vettore che sta nel piano stanno a loro volta nel piano. Dunque il sottospazio somma effettivamente è un sottospazio vettoriale di V. Appurato questo, diamo adesso un'occhiata alla cosiddetta formula di Grassman, che mette in relazione tra loro la dimensione del sottospazio somma e quella dell'intersezione. Supponiamo quindi che V sia uno spazio vettoriale e che U e V doppio siano due suoi sottospazi vettoriali aventi dimensione finita. Si può allora dimostrare che la dimensione del sottospazio somma è uguale alla dimensione di U più la dimensione di V doppio meno la dimensione dell'intersezione. Come qualcuno di voi avrà notato, questa formula è molto simile alla formula che vale per gli insiemi e che ci dice che quando voglio calcolare il numero di elementi dell'unione di due insiemi che hanno un numero finito di elementi, posso fare la somma tra il numero di elementi del primo insieme, il numero di elementi del secondo insieme e poi però devo togliere il numero di elementi che ci sono nell'intersezione, perché altrimenti questi qui li avrei contati due volte. Quindi diciamo questa formula è in un certo senso quella corrispondente che vale per gli spazi vettoriali. Naturalmente nel caso in cui nell'intersezione ci sia solo il vettore nullo, allora è chiaro che la dimensione dell'intersezione diventa zero e la formula precedente si semplifica, diventando semplicemente dimensione del sottospazio somma uguale somma delle dimensioni dei due sottospazi. In questo caso si dice che u più w è una somma diretta e per segnalare questa cosa si usa questa notazione, in cui rispetto a quella che si usa generalmente per la somma viene aggiunto un cerchietto intorno al più. Appurato questo ci resta infine da chiarire come si fa concretamente, una volta che ci vengono forniti due sottospazi vettoriali, a determinare il sottospazio somma e l'intersezione. E qui l'idea è che si procede in maniera leggermente diversa a seconda di come ci vengono forniti questi sottospazi vettoriali. Come abbiamo infatti già visto in altri video di questa playlist, è possibile che un sottospazio vettoriale ci venga assegnato dandone una rappresentazione cartesiana, ovvero assegnando una o più equazioni che le componenti dei vettori che fanno parte del sottospazio devono rispettare, oppure è possibile che il sottospazio venga assegnato si dice in forma parametrica, cioè in sostanza che ci venga detto che il sottospazio è lo span di un certo gruppo di vettori. Nel primo caso, cioè se dei due sottospazi ci viene fornita una rappresentazione cartesiana, è facile determinare l'intersezione. Infatti per trovarla è sufficiente mettere a sistema le equazioni corrispondenti al primo sottospazio con quelle corrispondenti al secondo sottospazio. Volendo fare un esempio concreto, se u fosse il sottospazio di R4 descritto da questa coppia di equazioni qui, ovvero 2x meno y uguale a 0 e x più z uguale a 0, e se w fosse il sottospazio di R4 descritto invece da questa singola equazione qui, cioè 3x meno z più w uguale a 0, allora il sottospazio intersezione sarebbe descritto da questa terna di equazioni qui. In altre parole, per dirla in termini equivalenti, i vettori che abitano in questo sottospazio sono tutti e soli i vettori di R4 le cui componenti x, y, z e w sono soluzioni di questo sistema lineare omogeneo. Naturalmente in questo caso il sottospazio avrà come dimensione il numero di parametri liberi che ci sono nelle soluzioni di questo sistema. E questo, come abbiamo imparato nel video precedente, non è altro che la differenza tra il numero delle incognite e il rango della matrice associata al sistema. Se invece di u e w ci viene assegnata una rappresentazione parametrica, cioè se sostanzialmente ci viene detto che u e w sono lo span di un certo gruppo di vettori, allora per avere una rappresentazione parametrica di u più w mi basta fare lo span dei vettori che mi vengono assegnati per u insieme a quelli che mi vengono assegnati per w. Volendo fare un esempio concreto, se ci dicessero che u è il sottospazio di R4 generato da questi due vettori qui e w è lo span di quest'altra coppia di vettori, allora capite che u più w diventa semplicemente lo span di questa quaterna di vettori qui che sarebbero i due di u e i due di w. Naturalmente per determinare a questo punto la dimensione di u più w resta da capire quanti di questi vettori sono linearmente indipendenti e per fare questo, come sappiamo, il modo più veloce è determinare il rango della matrice che ha questi quattro vettori come colonne. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato, concluderemo questo discorso nel prossimo video dove vedremo tra l'altro diversi esempi di esercizi simili a quelli che vengono assegnati negli esami soprattutto nella facoltà di ingegneria di algebra lineare e che riguardano somma intersezione di sottospazi, formula di Grassman e passaggio dalla forma parametrica alla forma cartesiana e viceversa. Come sempre se trovate utili questi video ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su facebook ed instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video.